Musica Nessuno di voi è indiziato per ora. Questo non è un interrogatorio. È una richiesta di notizie per un rapporto alla procura. Ma sa che non riesco mai a immaginare come un commissario passi il suo tempo libero? Ma te lo sceli in luogo pubblico! Oh, no! Fa finta che sto con te! Sì, mi cosi con te! Ma no! Fa finta che sta con te! Nell'alibi di mio marito c'è un vuoto. Lei lo sapeva? Cosa hai fatto ieri sera? L'alibi? Non ce l'ho mica. I ricchi non c'hanno mai alibi, tra loro non usa. Ma forse non hanno alibi nessuno dei due perché erano insieme a... E con chi? E no! Perché? Parlasse. Massimo Campi. Carruso. Chi siete? Commissario Santa Maria. È il suo collega da palma. Vi manda la dosio? Ci manda il dovere. Contessa Tabusso? Contessa un par di palle. Non è contessa. Né particolare bellezza, né particolare eleganza. Un impermeabile di quelli che sembra non esistere per quanto sono trasparenti. Tipo preservativo. Sì, non osavo. Noi vorremmo sapere cosa dobbiamo fare. Il magistrato... Beh, fate voi. Ma attenta ai giornali. E mi raccomando, mano di seta in guanto di velluto. La polizia chiede aiuto. La polizia ha la mano lagata. La polizia non può sparare. La polizia non trova mai un cazzo. Sa come dice un mio collega siciliano? Chi du che cerca quello che non deve, trova chi du che non vuole. Ah, ci dosio. Dosio, dosio. Dosio, dosio. E questo caro Massimo chi è? Massimo Campi. Campi, campi. Dosio, dosio. Campi, campi. Cazzo, cazzo. Un paradiso è rovinato da quel troiume. Scoprono dappertutto in lungo e in largo. Passano da un buco nella rete. E perché non lo chiude? Lo rifanno subito. Non avevo capito bene l'ultima parola. È un buco. Lo rifanno è un buco. Qu islandato è un buco. Lo rifanno. Un buco. Un buco è un buco. Grazie a tutti.